matteo picciucchi ciao ben trovati non so se già mi conoscete sono quello degli animali la prima volta che venni agli auto days da poco entrato in azienda però lavoravo già da molto tempo con odù presentai una sciocchezza un riconoscimento di barcode con una libreria che si chiama quagga quagga è un animale morto estinto quindi ciao quagga ed oggi presento qualcosa fatto in aul quindi col bufo quindi sono quello degli animali quindi matteo quello degli animali oltre a lavorare a casa con gli animali perché i miei gatti lavorano il mio ufficio e siamo un po così che cosa abbiamo fatto con con aul sostanzialmente molto spesso i clienti ci chiedono sempre più applicativi avanzati sempre più modifiche grafiche funzionali alle viste di odù che per quanto buone sono alcune funzionalità risultano difficili per l'utente non esperto chiamiamolo così fino all'introduzione di aul tutta la complessità il tempo di sviluppo dei widget delle client action di fare una vista non so se abbiamo mai capitato che era tipo una cosa abominevole righe e righe di codici da fare con i vecchi widget di odù erano appunto eccessivamente elevati poco funzionali e i risultati almeno a me piacevano un po po e quindi abbiamo sempre con i miei colleghi cercato di dare delle soluzioni alternative che cosa abbiamo fatto abbiamo integrato applicativi vgs applicativi react flutter sia all'interno di youtube ma anche con applicazioni esterne queste soluzioni al cliente se qualcuno ce la chiedeva espressamente sai ma voglio l'applicativo esterno ok andava bene altre volte risultava questa sensazione di non continuità l'ho chiamata io perché ovviamente anche la grafica le funzionalità erano tutto diverso cioè si vedeva che c'era una pecetta sopra no cioè ci metto una cosina lì dentro che si vede che è esterna di là di alcuni limiti tecnici problemi corsi eccetera eccetera bla 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 però al di là di questo c'era c'era questo questo problema a questo punto è arrivato un cliente e ci fa ma io voglio nelle liste many to many one to many tanti piccoli blocchetti diversi per ogni record e io faccio vabbè facciamo la vista kanban no nel senso almeno lì dentro ma no ma perché voglio interagire ma perché io voglio quella cosa diversa quell'altra cosa diversa sostanzialmente è nata l'idea di multi widget all'interno dei many to many adesso apparirà un immagina qui sotto che vi spiega meglio la cosa sostanzialmente ogni widgetino doveva rappresentare un valore del record ok quindi immaginate che un record della many to many nome record valore e un un campo che discriminava il tipo di widget che doveva caricare sostanzialmente questo questo è quello che è uscito fuori ovviamente non è l'esempio del cliente specifico che lo posso far vedere però l'ho riportato con un demo nelle attendanze nelle nelle presenze in modo molto banale abbiamo ho inserito un campo per la temperatura e che fa vedere un widget di un termometro con svg quella che cambia come vedete al poverino che c'era 42 di febbre però ce l'ha fatta poi abbiamo visto ce l'ha fatta a vivere e oppure che sta in trasferta con semplice cona e qui potete mettere quello che volete c'è la paginazione in altro e sostanzialmente sono dei piccoli blocchi indipendenti per ogni record fanno qualsiasi cosa perché alla fin fine sono dei moduli si chiama il modulo bloom up m2m multi widget è già presente nello app store l'abbiamo pubblicato qualche giorno fa più tardi nella nostra pagina linkedin c'è del link diretto altrimenti lo potete trovare direttamente sull'app store è gratuito ovviamente e sostanzialmente può essere utilizzato come una sorta di libreria perché almeno dici faccio quello che mi pare con ogni record come si usa bisogna creare bisogna fare un modulo estendiamo il modulo con la dipendenza il modulo esistente e poi facciamo un semplicissimo modulo in cui richiamiamo quel require bloom up m2m multi widget widget ritorna un array quindi noi mettiamo dentro un array un'altra classe che estende i component di owl semplicissimo il nome del template template che poi va scritto ovviamente nell'xml un costruttore semplicissimo vedete con tutti gli argomenti potete poi fare quello che volete lì dentro sia chiaro l'importante è che ci sia record perché lì dentro viene iniettato il record il rigo della many to many e vabbè questo widget record bootstrap class che semplicemente aiuta un pochino aggiungere delle classi bootstrap al bocchetto ma poi potete anche non usarlo sia chiaro e questo è il minimo indispensabile per farlo funzionare per fare una cosa del genere e lui più il template e lui funziona mettendolo poi dopo dentro al campo ovviamente non vi faccio vedere l'SVG perché è tipo una cosa abominevole quindi mi servivano tipo 10 slide per farlo vedere e questo sopra questo semplice suite case la valigia che avete visto con il record display name che va sotto questa è la parte importante del modulo andiamo ovviamente a prendere un field many to many o one to many come dicevo ci mettiamo il widget m2m multi widget scegliamo con il parametro multi widget limit quanti rep vogliamo vedere per pagina l'ho messo perché possono essere più o meno grandi lo scegliete voi avete visto vengono cose grandi magari uno ce ne mette 40 è una cosa un po' abominevole le classi bootstrap semplicissime multi widget list field sono la lista dei campi che dobbiamo leggere di quel record non ci limitiamo solo all'idl display name che ci ritornano all'interno della classica many to many quindi c'è una piccola guerra in più ma niente di che multi widget field è il campo in cui noi andiamo a identificare quale quale di quelle classi qua andiamo a richiamare come vedete è una una selezione una stringa l'importante che in name list venga fatta il match tra quello a sinistra business trip termometer che trova sinistra che trovate dentro al campo field e il nome della classe del del componente haul che avete creato e fatto questo aggiornate e si vede quella cosa che avete visto all'inizio è così come funziona questa è tutta la struttura del widget era è cortissima non pensavo di fare una cosa veramente così corta pensavo ci volesse molto più tempo e poi invece alla fine è avvenuta una cosa abbastanza abbastanza semplice ok un grandissimo pippone tecnico se volete vado avanti veloce che nel costruttore prendi subito gli attributi che vengono inseriti dentro il campo della vista quando voi andate all'interno del widget perché ovviamente viene caricato come widget con quindi abstract field all e field registry all che poi andate a registrare sotto è una sorta di sono due due classi che hanno messo di compatibilità tra il vecchio sistema widget e l'attuale haul si prendono i parametri che trovate dentro attrs del multi widget dell'abstract field stanno tutti lì dentro tutti quei parametri questi qua li trovate tutti lì dentro e ovviamente tutti i parametri li prendono ok ne prendo uno sopra prendiamo fa creiamo uno stato con dentro i record e la pagina i records in realtà non vengono renderizzati da template ma poi faccio vedere come vengono renderizzati dopo potrebbe anche essere fuori lo stato è chiaro però vabbè dentro una variabile un parametro del m2m multi widget richiamo tutti i componenti quei due di default che ho messo io nel demo più tutti quelli che volete aggiungere e poi vabbè chiamo un evento get records se disgraziatamente magari voi volete magari fare il refresh dal vostro componente magari una cancellazione un qualcosa e quindi in qualche modo dovete scatenare qualcosa per richiamare i parametri corretti i record corretti insomma quindi abbiamo aggiunto aggiunto questo evento banalissimo buttato dentro l'environment dentro perché perché tutti i componenti saranno figli di questo quindi se lo ritrovano per per definizione e questo è get records che prende tutti i parametri con l'offset e limit dentro quel value resti ds dentro a una many to many lì dentro sono sempre tutti gli id che stanno lì dentro quindi inutile fare la query fai lo slice lì e poi fai il read con quei widget list fields che sono quei parametri nel array che mettete dentro alla vista correttamente prima e questo è sostanzialmente la funzione principale con cui vengono renderizzati con questa eval si prende qual è l'oggetto è il dal widget name list dentro il campo widget field trovo il nome se lo trovo come oggetto caricato altrimenti prende il default per evitare che mi crescia tutto sostanzialmente che c'è un buco vuoto il default quello che trovate lì è solo il display name niente di che però per evitare insomma che si rompe magari anche semplicemente avete scritto male qualcosa me ne accorgete qualche errore esce con un tab ma niente di che e poi valutiamo questa stringa no? new self multi widget modules è lì dentro che ho caricato tutti i widget che voi i componenti in realtà che voi andate a creare di object e di self perché almeno diventa figlio di del multi widget sostanzialmente vedete dentro record buttiamo l'elemento stiamo facendo il ciclo mettiamo le classi e poi lo montiamo quindi per questo dicevo prima nello stato non è poi così necessario che i records stanno lì dentro sia chiaro quindi perché vengono montati esattamente qui con OWL possiamo fare molte altre cose io non so qui c'è un video non so se qui ovviamente non parte non so se ce l'abbiamo disponibile da qualche parte il video qualcuno che mi dice qualcosa no? non lo so infatti non c'era una slide c'avevo un video sostanzialmente questo ve lo racconto un po' così questo invece è un verticale che non possiamo pubblicare ovviamente semplicemente questa è una scrivania ok? è esattamente quello che immaginate ci sono delle cose vedete da A andiamo da un posto all'altro chi è l'azienda che ce lo fa li puoi spostare come ti pare gli dai il colore rimangono in sessione in modo tale che tu puoi andare avanti indietro nei giorni affinché con quella posizione io questo me lo metto qui rosso questo me lo metto la verde e così via e nel lato destro dove c'è aggiungi gruppo potete aggiungere una serie di gruppi perché poi queste cose vanno raggruppate dentro uno di questi blocchi quindi ogni volta che poi fate lo spostamento si crea una query quindi funziona proprio in comunione con Odoo poi viene assegnato un corriere tra virgolette a quei gruppi e puoi completare il gruppo quindi sostanzialmente queste cose si spostano di qua e di là in base a come ti servono sostanzialmente è la replica della scrivania sai c'è una marea di fogli sulla scrivania questo lo sposto perché questo lo fa Matteo questo lo fa Francesco questo lo fa Francesco questo Matteo questo Gennaro e così via e poi li raggruppi abbiamo ricreato la stessa antica cosa client action componente owl 7-8 componenti da owl in realtà uno figlio dell'altro e così via e sostanzialmente trovo che questo nuovo framework JavaScript sia molto più potente queste sono piccole conclusioni mie molto più ci dà delle opportunità che prima si avevamo ma diventava sempre difficoltoso cioè questa cosa qua magari prima ci mettevo x tempo adesso ci metto x diviso 4 per fare questa cosa qua forse anche di meno e così via perché? perché secondo me è arrivato anche il momento di andare un po' oltre le semplici cose metto nella lista aggiungo i campi lì bisogna anche dare un po' di usabilità diversa al cliente se ce la chiede ovviamente perché è un costo di lavoro quindi se ce la chiede bene se no no io ho finito domande qualcuna delle domande nel caso specifico ma il cliente può crearsi il gruppo dinamicamente? parli di questo? sì 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 quindi un utente finale può crearsi un gruppo poi varia gente lo mette dentro il gruppo sì ovviamente il gruppo è collegato a un modello di odota sì 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 in questo caso si chiamano movimentazioni e i gruppi si chiamano gruppi niente di che questa cosa qua serve per organizzare le movimentazioni di prodotti no in questo caso sono movimentazioni di automobili però per fare qualsiasi cioè per ora è incentrato sulle automobili da acqui vado a prendere da acqui in via Roma a Salerno la devo riportare a Roma no così che uno si può organizzare il percorso no cioè se io devo mandare tizio da Salerno a Roma vedo se ce l'ho un'altra disponibile da Roma a Salerno perché mi deve ritorno a casa le metto nello stesso gruppo gli rassegno gli mando l'email poi vabbè l'applicativo sotto è irrilevante all'atto pratico di Aul qua e come ho detto quest'altro voi lo trovate nell'app store mi farebbe piacere se qualcuno ci ha voglia di giocarci l'altro si chiama blu map M2M multi widget sta su store di Google mi farebbe piacere e poi magari mi mandate un'email mi dice guarda Matteo sta cosa fa schifo sta cosa è figa perché non è fatto così perché non è fatto cosa mi farebbe estremamente piacere insomma ecco qua altre domande se no lascio questa è una client action questa è una client action che carica un componente Aul tutto questo è un componente Aul che io ho diviso in questi due modi qui carico un oggetto qua da questo settore ne carico un altro cliccando sulla I si apre il form di questo oggetto qua che puoi modificare cliccando sulla X fa il refresh di questa cosa quindi quando esci dal form intercetto anche la modifica nel form questa non l'avevo detto prima ma vabbè si vede qua nel video ma per questo? esattamente per questa cosa qua innanzitutto la divisione di mettere da parte ma c'è un grandissimo ma al di là del gruppo a destra che dici vabbè metto una select dentro la kanban metto faccio un po' qualsiasi cosa voi qua le vedete così grandi perché è su un 1080 voi lo dovete immaginare questa cosa su un 4k ce ne stanno 10 per riga quindi già vedi i primi circa 60-70 blocchi 60-70 movimentazioni vedi se tu vai sulla kanban magari devi mettere tanti dati ti viene una cosa e poi è sempre in verticale no? sulla colonna devi scrollare molto il cliente non piaceva questa cosa perché dice continuo con i fogli e poi vado a riportare in Odoo quello che ho fatto con i fogli e io ho detto no lo fai in Odoo ho detto nel senso e è venuto fuori questa cosa lui è molto soddisfatto di questa cosa ovviamente perfettibile sia chiaro non è che sto qui che sono Gesù sceso in terra no assolutamente no però l'esigenza era esattamente questa che è un po' la stessa esigenza del modulino che vi ho presentato prima potete benissimo farlo con la kanban tranquillamente dentro però poi è stato divertente una mia collega quando l'ha visto e mi fa ma quindi io posso fare tutte quelle cose che mi ha chiesto cliente X è la prima cosa che mi ha detto e ho detto sì tecnicamente sì bottoni interazioni diverse spostarle per fare quello che ti pare lì dentro perché ad alcune persone non basta quelle cose lì sono poche sì però è divertente è una domanda brutta si può riscrivere l'interfaccia del CRM con sta roba quindi ti posso riscrivere qualsiasi cosa con sta roba cioè te la crei te l'interfaccia Antonio non ti vuole venire strani dentro cioè nel senso Antonio poi dopo ne parliamo no certo adesso perché voi lo vedete da card questo qua che sembra una kanban ma semplicemente perché dà l'idea del post it perché mi ha fatto il cliente mi ha fatto in mente questa cosa perché poi uso i post it mi ha fatto vedere la scrivania con tutti i post it e allora mi è venuta in mente questa cosa ma lì ci può stare qualsiasi cosa puoi fare anche le righe puoi fare qualsiasi cosa ma la stessa cosa il widget il multi widget puoi rifare la classica vista a lista più avanzata con più cose con poche righe cioè lo fai solamente grafico cioè quando tu scrivi l'xml perché scrivere quel pezzettino di javascript per implementarlo è tipo una cosa così poi vabbè le interazioni le funzioni chi lavora in javascript le scrive è ovvio ma poi è benissimo scrivere tre righe così e poi fai lì tu xml come ti pare quindi sì puoi fare più o meno tutto grazie sì c'era il video perché ve lo volevo far vedere c'ho anche altre avevi chiesto te nella presentazione proprio nella presentazione c'erano il video se no te lo condivido ma nel frattempo se c'è qualche altra domanda sì una domanda veloce ti volevo chiedere prevedi il modulo il modulo base quell'altro facciamo degli acchere sì volentieri molto volentieri attualmente è gratuito sullo app store perché per due volte dovevamo presentare qualcosa a volte ce l'ho dovuto avere pronto non ce l'avevo e mi dispiaceva venire qua e non avercelo e quindi ho chiesto se me lo mettevano sullo app store perché parlavi di paper si si sarebbe da chiedere non so come poi magari facciamo due chiacchiere dopo e vediamo secondo me si potrebbe essere utile c'è il video nella slide c'era era nell'OPD che ti avevo mandato sicuramente c'è l'OPD senti condivido dai cloud adesso lo recopediamo poi chi c'era che mi ha alzato la mano te no non è una vista non è una vista odù nel senso che non la puoi caricare su qualsiasi modulo per ora è chiusa esattamente di quale parliamo scusa dell'ultimo o del modulo widget quello del multi widget l'ultimo no è bindato su quella roba lì fa solo su quegli oggetti lì che sono due configurazioni del javascript per cambiare l'oggetto e le cose non è niente di che metterlo nella vista attualmente non c'è tantissima ancora compatibilità ho visto anche all'U2 experience non mi ricordo mai come si chiama il responsabile della parte del framework javascript non so se Davide lo conosce che ha detto che piano piano andranno verso la sedice a sostituire tutto il core con il nuovo framework quindi io penso che da quel momento in poi sarà più facile implementare certe cose nel back end ci ho messo un po' a capire come arrivare a questa cosa ma poi è molto integrato ci sono le classi di compatibilità quindi mi aspetto che dalla 14 perché questo l'ho fatto sulla 14 alla 16 quelle funzioni non esistano più sia una cosa standard nel framework però non è detto nel front end invece quando tu vai a fare io uso già haul nel front end con alcuni clienti ho fatto un sacco di componenti in realtà per lo stesso progetto c'è tutta un'interfaccia nel front end per i suoi clienti per inserire quelle richieste lì e per monitorare fatta in haul ok molto generica anche quella configurabile poi ne parlo con l'edizia e vedo com'è la situazione di quella roba lì se la posso pubblicare o meno perché è configurabile sono delle una specie di tabella che diventa anche card in modalità mobile usabilissima tipo app mi piacerebbe renderla una più buona in realtà però vabbè ciao poi ci penserò nel front end non c'è tanto compatibilità nel front end devi richiamare la sessione devi fare le traduzioni dentro il file javascript e spero che a breve riescano a introdurlo tutto e a quel punto sì a quel punto ti faccio la vista perché almeno la attivi il multi widget invece no quello lo attivi lo funziona su qualsiasi cosa qualsiasi many to many e one to many quello la ecco 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 puoi modificare qualcosa quando chiudi refrescia vedi là aggiungi i gruppi lì si rimpicciolisce solamente per far vedere anche da lì, dalla i puoi chiamare lì assegni il dipendente e poi la calendar se vuoi sistemare la cosa ho cercato di integrarlo quello che avevo disponibile non lo rifaccio ovvio, nel senso che funziona bene e poi lo chiudi e finisce così tutto è partito da quel giochino dei multi-widget e poi studiando, studiando, studiando siamo arrivati a questo e oltre poi altre cose che sto sviluppando ovviamente sono in beta quindi non l'ho presentata per non fare figuracce quindi semplicemente quello va bene, un applauso Matteo grazie 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 a tutti